Il file 39, limiter 2020. Andiamo ad aprire l'open editor e vediamo che in questo operatore c'è scritto limiter. Limiter significa la possibilità di andare a limitare, come è inserito nella sua descrizione, la costruzione di varie particelle delle sue proprietà, quindi in questo caso come vedete si sta costringendo su un asse, meno 100 e 100, poi lo vedremo in azione. Adesso lo cancelliamo o lo spegniamo, così dopo riprendiamo questo e gli ne mettiamo uno nuovo. Innanzitutto lui cosa fa? Mi limita la posizione. Se io voglio limitare la posizione su tutti gli assi e cambiare le variabili nello stesso momento, devo avere questo flag attivo. Ad esempio qua noi abbiamo questa unità di misura. Se io gli dico che qua si deve espandere a 50 in direzione positiva, che sono gli assi XY, su tutti gli assi, in questo caso lui che cosa sta dicendo? Basta orientare il varioport. Mi sta dicendo guarda che in direzione XY positiva io ti faccio arrivare fino ad esempio al 50 e questo significa che lui su i tre assi è limitato fino al 50. Poi si ferma, va a sbattere. Se io gli dico 100 gli do la possibilità di fare più strada e quindi si espande ad esempio anche in questa direzione e questa direzione e così via. Se gli dico ad esempio 1000, 10.000 e così via, gli do tutto lo spazio necessario e quindi lui ha la possibilità di muoversi su tutto lo spazio, sia in una direzione positiva che in direzione negativa. Se io disattivo questo e gli dico guarda che tu ti esposti a meno, facciamo 100 in una direzione, vediamo se poi va a sbattere, arrivato fino qua, e a 100 nell'altra direzione, quindi lo costringo sull'asse della X, lui non può più crescere liberamente, quindi va a sbattere contro un muro immaginario, come se c'è un vetro. Ve ne accorgete molto bene all'interno della finestra ad esempio front o nella finestra ad esempio top, chiaro che tutto dipende dall'asse che voi utilizzate. Il tutto può essere variato, quindi gli potete dire mi dai una variazione del 50% e quindi lui ha un 50% di sfumatura, mi dai una variazione del 10%, lui ha una sfumatura del 10% dentro il quale si può estendere. Use shapes bound, va a utilizzare la shapes di contenimento della particella per andare a collidere con questi limiti che noi li abbiamo inserito e qui si influisce anche in relazione a quella che è la sua velocità, quindi questo è un po' il suo concetto di limitazione nello spazio, perché siamo in posizione. Questo concetto si può facilmente applicare a tutti gli altri elementi, quindi vuol dire che se io gli dico limita nella scala e molto più velocemente vado in quella che è la sua forza, gli dico 5, come potete osservare qui le particelle cominciano a cambiare la proporzione. Se gli dico ad esempio 10, vedete come diventano più grosse, e anche qua ho una variazione 50%, quindi posso variare alcune diventano più grandi, alcune no, ed anche qui ci sono dei limiti di scala, ovvio che se io gli metto un limite più piccolino queste le vado a schiacciare, si schiacciano, non sono più così rotonde come abbiamo creato precedentemente, quindi posso influire anche sulla dimensione di queste particelle in questo modo, andando a modificare il suo limite di scala. Limite di velocità, stesso discorso, io posso andare con i magnitude ad aumentare o a diminuire la velocità, questi si espanderanno molto più velocemente, quando io gli dico ad esempio 5%, quindi le spariamo, vedete come si sparano in questo modo, e anche qua ho variazione al 50%, quindi vado a sparare queste particelle, limite di accelerazione idem, posso modificare la mia accelerazione, quindi in questo caso vado a ridurre l'accelerazione, abbiamo anche una decelerazione della particella, quindi posso aumentare la decelerazione di questa particella, in questo caso, quindi su questo coefficiente io aumento, su questo coefficiente vado a decelerare, e anche qua ho una variazione, quindi un seme, spin riguarda la rotazione, stesso discorso, se abbiamo delle particelle, posso andare a modificare la rotazione, sua variazione, e idem per quanto riguarda il raggio di azione di questo effetto, limit radius, che va a cambiare fortemente l'aspetto della mia animazione, con questo operatore, gli operatori vanno pensati come i modificatori di 3ds max, quindi io posso andare a modificare l'aspetto della mia animazione, del comportamento delle particelle, ovviamente nella scena vi ho messo una abbastanza semplice, con il limite della posizione, un pochino della scala, leggermente della velocità, senza proprio esagerare, in modo tale da farle confluire, come si vede molto nella finestra frontale e nella finestra top, sui lati, sulla X qua, vedete come loro vanno a disporsi in questo modo, chiaro che se io le voglio limitare qua sopra, dove c'è la Z, andrò a limitarle ad esempio sulla Z, 100 position, in questo caso è la parte positiva, perché 100 è in direzione positiva e questo è in direzione negativa, loro arrivano fino a una distanza di 100 e poi vanno a collidere con un piano immaginario, che è qua sopra, se le voglio chiudere anche sotto, è chiaro che qua dovrò dirgli meno 100 e quindi le vado a vincolare direttamente anche sull'asse della Z, sopra e sotto, questo ancora non è un cubo, diventa come dire un rettangolo, perché loro si possono espandere, in questo caso soltanto liberamente sulla Y, che è questa verde infatti, eccola qua, quindi vanno a creare un ipotetico rettangolo.